La sulmonese Emanuela Spica, in gara con i colori delle fiamme gialle, ha vinto il titolo tricolore della sciabola femminile under 20 ai campionati italiani giovani e cadetti che si sono svolti a Padova. L'atleta Pelinia di 19 anni, cresciuta nella palestra di scherma sulmonese, si è imposta in finale per 15 a 12 su Lucia Stefanello delle fiamme oro. È stato il coronamento di una stagione molto intensa in cui ho raggiunto una buona continuità dei risultati senza incappare in alti e bassi, anzi aspettavo questa gara per dare meglio di me, tirare fuori la mia scherma, vincere il primo titolo italiano, una grande gioia che mi ripaga di tanti sacrifici, ha commentato la campionessa al termine della gara.